Nenuco! Dottore, perché piange? Ha fame! Come lo sai? Dottore, perché piange? Ha la febbre! Ma come lo sai? Il suo traduttore del pianto ti dice sempre che cos'ha! È la tua Nenuco, dottore! Famosa! Nenuco Mesh rosa! Guardate com'è Passion! Con la piastra delle Mesh! Solo per la tua Nenuco! Passion! E ora la conciatura! Ciacchiette, cuoricini, piocco, i ciuffettini! Così siamo alla moda! Nenuco Fashion! Seguici su Facebook! Famosa!